Ciao, sono Giampaolo Ottolini di TrasDesign, Product Specialist di Visual Production per Audioeffetti. Oggi vi faccio vedere come creare una memoria, come accenderla, come spegnerla, usando il calendario date e ora, usando l'ingresso GPI e usando due pulsanti su kiosk nella nostra interfaccia touchscreen di Visual Production. Useremo un QQR2 collegato via rete al computer. Quindi per accedere al processore useremo VManager, VManager ci indica già l'indirizzo IP, cliccheremo su Browse. Questa è la schermata del processore, ora dobbiamo creare una Track, quindi andremo sulla pagina Track, selezioniamo la 1, Open Console, metteremo il canale 1 a full. Questa è la nostra memoria creata sull'universo A, il valore percentuale, Label 1, full. Close, la andremo ad aggiungere dentro il playback per poterla vedere, quindi Add, compare già la nostra, ma se ne avessimo di più, qua possiamo scegliere quale Q aggiungere. L'abbiamo aggiunta dentro il Playback 1. Torniamo sullo Show Control, aggiungiamo come Source Scheduler Add, aggiungeremo due azioni, la prima On, la seconda Off, quindi Edit sulla prima di On. La task sarà Playback, Transport, Go più, il parametro 1 sarà 1 perché è riferito al nostro Playback, quindi nel nostro caso il Playback 1. Il trigger, data e giorno, qua possiamo scegliere se giorno della settimana è un orario, data è un giorno preciso, alba e tramonto o time span o daylight saving time. In questo caso usiamo data e giorno. Change, qui impostiamo la data, quindi anno 2020, mese qualsiasi mese, giorno qualsiasi giorno, orario 19 e 00, alle 7 eseguirà questo comando. Edit sull'Off, il nostro trigger sarà sempre lo stesso, Date and Time, Change, X, XX, lo spegnimento avrà alle 01, 00, quindi a luna di notte. Add, il task sarà sempre Playback, in questo caso sarà Transport, Release. Il parametro sarà sempre 1 riferito al nostro Playback. E questo qui già ci permette di far funzionare il nostro processore. Ora, se vogliamo controllare questo Playback da un pulsante, andremo su GPI, che è la nostra source, aggiungeremo due azioni anche qua, On e Off. On, Edit, Channel 1 riferito al GPI 1, Add, Playback sarà sempre il nostro task, Transport, GoPiU, e il parametro sarà sempre 1 riferito al nostro Playback. Off, Add, Playback, Transport, Release. In questo caso qua ci converrà sostituire come trigger per il Release la Long Press, e per l'On mettere la Short Press. Praticamente sono due azioni che vengono eseguite sulla GPI 1, a seconda della pressione lunga o pressione corta, il processore eseguirà un'azione piuttosto che un'altra. Se volessimo aggiungere due pulsanti anche su Kiosk e l'interfaccia touchscreen, noi andremo su Kiosk, la sorgente sarà Kiosk, Add, due bottoni da Action Type sulla destra, bottone 1 e bottone 2, posso rinominarli, comunque bottone 1 sarà Edit, il comando sarà sempre Playback, Transport, GoPiU, il parametro sempre 1, e il bottone 2 che sarà Release, sarà sempre un Playback, Transport, Release, 1. Se cambiamo i nomi qua nella colonna Action, saranno i nomi che ritroveremo sui pulsanti, quindi un pulsante lo chiameremo Go e un pulsante lo chiameremo Re-Release. Un'altra cosa che vi segnalo, facendo sempre Edit del Release, qua possiamo scegliere il colore del pulsante, quindi Re-Release magari lo faremo a rosso e il Go lo faremo a verde. Siamo stati veloci, ma queste sono le basi, giusto per farvi vedere cosa si può fare e far nascere un po' di curiosità. Se avete bisogno di maggiori informazioni o volete approfondire un argomento particolare, scrivete alla mail all'indirizzo stream-audio-effetti.it. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Grazie per l'attenzione, arrivederci a presto. Grazie per la visione!